Cosa puoi dirci sugli obblighi familiari che però ti stressano? Io ad esempio non posso andare via di casa perché sarebbe come abbandonare mia mamma che è vedova. Eh Ismail, è il condizionamento sui sensi di colpa, torniamo, ne parlavo ieri, è uno dei mezzi migliori che usano i genitori per condizionare i figli. Quindi se vai via io sto male, se vai via mi abbandoni, cioè spesso e volentieri i figli sono fatti proprio per soddisfare la propria paura d'abbandono, ok? Quindi che succede? Quando rischiano che pure il figlio se ne va succede tutto di più. C'è gente che si ammala per questo, io ho visto gente che si è fatta venire i tumori pur di avere i figli vicino perché era l'unica maniera per poterli avere. Ho visto gente che è morta per questo, quindi attenzione, cioè, e soprattutto è una cosa fondamentale, questo ricordatevelo, ne parlavo in uno dei flow di qualche giorno fa. Questo è importantissimo ragazzi, però qui bisogna avere veramente le palle per farlo e dovete anche spiegarlo, perché se no venite ovviamente giudicati, quindi se siete ancora nella paura del giudizio non lo fate perché è devastante, però se volete davvero aiutare qualcuno, non dovete premiare il comportamento errato, questo si studia quando si addestrano i cani, ok? Quindi essendo uguali, in realtà sarebbe sull'addestramento degli umani. Ricordate questo, il principio è stimolo-risposta, per cui se un bambino non riceve le coccole, ok? Mai, perché i genitori sono sempre impicciati, è l'unica volta che si ammala, tutti e due i genitori non vanno al lavoro, stanno sempre vicino a lui, mamma mi porti l'acqua, subito arriva l'acqua, mamma, subito arriva quell'altro, e il papà gli racconta le storie, e quindi capisce che la malattia è uguale coccole e attenzioni, io divento la cosa più importante del mondo per loro. Quando confermate un comportamento del genere, quindi la prima volta diceva, ah cavolo, sto comportamento funziona, figo! Quando gli serviranno di nuovo quelle coccole, si riammalerà. E se i genitori riconfermano il comportamento, cioè si comportano esattamente nella stessa maniera, il bambino crea lo schema e dice, malattia, loro arrivano qui a fare i miei schiavi, e sono a mia disposizione, e mi coccolano e fanno tutto quello che dico io. Fantastico. Schema creato, questo schema te lo porti fino a cent'anni finché non mori. Per cui, quando diventerà mamma o padre questo personaggio che prima era bambino, avrà come schema che avrà come unica conoscenza, spesso e volentieri, perché non ne avrà altre, perché se non ha studiato ad esempio comunicazione, se non sa come creare dei presupposti per poter tenere vicino la famiglia, o come poter liberare da tutto questo la famiglia, si ritrova con un unico schema conosciuto, ovvero quello di ammalarsi per poter avere tutti vicino. E se questa è la mamma o il papà che vede che i figli si allontano e rimane da solo, che cosa farà? Si ammalerà. Non solo si ammalerà, ma se vede che la malattia che ha creato non basta riavvicinarli, aumenta la posta e si ammala sempre di più, fino addirittura a morire, addirittura. Quindi, attenzione, quindi attenzione a confermare un comportamento del genere. Cioè, se la mamma ti usa il senso di colpa per tenerti là, ogni volta che tu rimani là, confermi il comportamento, quindi utilizzerà sempre quella strategia perché sa che è funzionale. Cioè, in natura, ciò che è funzionale non si cambia. Questa è una base di regola. Quindi, attenzione a fomentare, a confermare e a premiare gli schemi, perché non cambieranno mai così. E soprattutto la persona non li capirà mai, li vedrà confermati. Grazie a tutti.